Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, un nuovo video come al solito io sono Gavri, io Birillo, oggi andremo a farvi vedere i nostri liquidi fatti da noi, vai Birillo, faccio vedere, allora sono due aromi della Blenfield che abbiamo miscelato noi, li abbiamo fatti al 15% con una baseta 70-30, allora questo qua è la Blenfield del Kiwi Green, un kiwi fortissimo e questo qua invece è Desert Blood, sangue del deserto, allora volevamo ringraziare il senso dello svapo, Remo Nardella, Ricordiamolo, allora ora facciamo la prova di svapo con questi liquidozzi che li abbiamo fatti andare con l'agitatore magnetico, li abbiamo fatti girare 24 ore, ora andiamo a fare la prova di svapo Cosa proviamo per primo? Quello che vuoi, sono quasi simili, uno è tutto fruttato, stile cactus dell'Avaporart, uno è il Kiwi, ce l'ha piaciuto quando siamo andati a Vapitali, allora, io devo provare col Druga e il Ghani, Io invece sopra ho l'hammer con l'Apocalypse, allora questo qua è il Desert Blood, sangue del deserto, è buono però non riesco a capire quello c'è dentro, è bello dolce, tipo cactus, tipo cactus, ci sente bene? L'abbiamo fatti al 15% Si Si Sembra che c'è qualche spezza, non lo so, però è buono Che voto gli dai? 7 a mezzo Se lo merito E' venuto buonissimo, si sente molto bene l'aroma Dolce Dolcissimo Buono A noi ci piacciono i dolci, siamo cremosi, questo qua fruttato dolce così, stacchi un po', ti pulisci un po' la bocca Buono, quando frutti cioccolatosi, cremosi, nutella, too puff, questo qua un po' ogni tanto stacchi un po', invece dell'iceberg, per cambiare un po', che ti congira tutto, per puliti un po' la bocca, qualche fruttato, ci sta Ora andiamo a fare la prova con il kiwi, il kiwi green Ora ce ne abbiamo ancora qua nei boccioni, perchè li ho preparati l'altro giorno Buonissimo Si sente bene il kiwi, è fedele all'etichetta, diciamo, della prova Ti lascia anche il pizzicino, come quando mangi il kiwi, è vero Che ti fai fettine, troppo api, ti semini, sembra che c'è Semini, sa che ti lascia quel grip nella gula, uguale Liquido da 8, 8 e mezzo Lo consigliamo Per l'estate questi liquidi qui sono tanto Presi da Svopo Caffè, ricordiamo Marina di Carrara Molinciara E la spezza, è andatela a trovare Ti ringraziamo Kriwi per averci consigliato questi aromi Che sono veramente buonissimi Il top Della Blackfield Risaltano bene, diciamo, l'aroma all'interno della base Si, sono molto fedeli a quelli Abbiamo provato tanti liquidi da fare da noi E non li senti, magari fai anche seguendo le cose Non vengono giusti Si Buonissimo Aroma potentissimo Si E non smaganea E non smaganea anche Buono Dalla tabella dello Svopo è tutto Se il video vi è piaciuto lasciate il like Iscrivetevi al canale Mi raccomando ragazzi iscrivetevi Vi aspettiamo Buon appetit Ciao 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 Grazie a tutti.